Adesso accorcare ho trovato un fornaio e ho preso un biscotto grosso al cookie e una frolla con farina di farro con mele caramellate, da provare. Questa è la busta e qui c'è staccare. Ora vi faccio vedere il posto. Il posto è questo qua, sto fornare qua. Forno le briciole. Questo è il biscotto al cookie, tanto è grosso, raga. Buono. Ma l'ho mangiato così grosso. Poi a me i guti mi fanno un pazzito proprio. Vabbè, guarda. Questa è la frolla con farina di farro e ripiena di mele caramellate. Ammazza, sembra proprio buona, raga. Guardate che pezzi di mele. Buona, tanta roba. Questo è il posto, raga. E qui poi fanno tutti i primi, anche consegne a domicilio, fanno un sacco di roba. Io ci sono capito la pomeriggia, immagina la mattina.